A Ferrara lo stiamo vivendo con questa annunciata riforma dei pronto soccorsi. Come mettere a posto, come risolviamo, come affrontiamo questa contraddizione? È una contraddizione? È una contraddizione già innanzitutto collegata al PNRR, nel senso che il PNRR ci spinge a fare più strutture territoriali, prendendo come modello le case di comunità che già in Regione Miglia Romagna abbiamo e che dobbiamo implementare, ma mentre il PNRR ci dice più strutture, il Fondo Sanitario Nazionale è sottodotato nel momento in cui deve mettere a disposizione le risorse economiche per poi far sì che quelle strutture possano vivere. Che non finiscano nel 2026. Esatto, e questo è un primo problema. Poi c'è un problema enorme su cui stiamo costruendo una risposta attraverso la riforma dell'emergenza-urgenza che è legata al fatto che alcune figure professionali, in particolare quelle dedicate all'emergenza-urgenza, purtroppo sono carenti, sono molte meno di quelle che servono. E, diciamo così, i percorsi di studi che sono cominciati, le iscrizioni alle diverse specializzazioni, ci dicono che questo sarà un problema che ci porteremo dietro per 7-8 anni. E quindi la riforma che stiamo immaginando non parte tanto, in questo caso, da un problema economico, ma da un problema di risorse umane a disposizione, di professionalità a disposizione. Quindi dobbiamo creare le condizioni affinché, a fronte di professionalità, il numero inferiore a quelle di cui abbiamo bisogno, il sistema comunque funzioni. E quindi stiamo cercando di concentrarlo sui temi della proprietezza, cioè fare in modo che una persona che ha un codice bianco, un codice verde, possa rivolgersi a una struttura che possa curare quella cosa lì, senza andare ad intasare le situazioni più emergenziali a cui le persone poi si rivolgono. C'è una grande delusione nei cittadini, direi proprio anche della nostra provincia, del Centese, di Cento, che perderà, secondo questa riforma, il cui ospedale perderà, diciamo, la centrale di pronto soccorso dell'emergenza per, diciamo, limitarsi ad avere un punto per gli interventi di urgenza, per la medicina d'urgenza. Adesso su questo vedremo come verrà calata su Ferrara l'impostazione di questa riforma. C'è un elemento che Ferrara oggi può vantare rispetto ad altre realtà, anzi, lo può fare insieme a Parma e alla Romagna. A Ferrara abbiamo fatto partire il percorso di integrazione tra le due aziende, tra l'azienda ospedaliera, universitaria e l'Asla. Questa cosa può consentire di efficientare al meglio l'utilizzo delle risorse umane, perché un'unica azienda può creare politiche di utilizzo delle professionalità, come dire, finalizzate a costituire delle economie di scala. Se le due aziende ragionassero singolarmente, forse queste economie non ci sarebbero. Essendoci l'azienda unica, a mio avviso, su Ferrara possiamo rispondere. Su Ferrara provincia. Ferrara provincia, Ferrara inteso come territorio provinciale, possiamo rispondere in modo ancora più efficace, proprio grazie all'integrazione delle due aziende.